In compagnia del presidente della provincia di Pescara, Guerino Testa, che partecipa a questa seconda edizione Pescara Sposi, il porto turistico come pollo espositivo per una manifestazione che quest'anno è diventata fiera, a tutti gli effetti, che raccoglie tutte le aziende del territorio Abruzzo in una bomboniera d'evento. Saranno due giorni interessanti, non solo per la nostra città e la nostra provincia, ma penso per l'intero Abruzzo. Il fatto che ci siano decine di aziende, circa 40 si ricordo bene, che esporranno, quindi dando un ventaglio di soluzioni a tutte le coppie meno e più giovani perché vogliono in qualche maniera diversificare e caratterizzare il giorno del loro matrimonio. La prima manifestazione ha avuto circa 10.000 presenze, quest'anno spero che le presenze aumentino e bisogna fare un applauso agli organizzatori perché questa manifestazione, questa fiera, diventerà sicuramente una delle fiere più importanti del centro-sud e diventa sempre più anche uno strumento di marketing territoriale perché più persone entrano nella nostra città, più persone conosceranno la nostra città e tutto ciò che ne consegue. Comune, provincia e regione uniti per una manifestazione importante. L'Abruzzo è una regione ricca di artigiani, produttori, specificatamente in questo settore ma anche in altri settori, perciò anche attraverso queste manifestazioni si può sviluppare una sorta di conoscenza del territorio. Silvia Di Silvio, di Intorni SRL, che insieme al Girasole quest'anno organizza la seconda edizione della Fiera Pescara Sposi, una fiera che ormai è diventata un punto di riferimento nonostante sia soltanto la seconda edizione. E' importantissimo punto di riferimento per quello che è il wedding time abruzzese. La città di Pescara si riconferma un polo di attrazione per quanto riguarda gli incontri diretti, il marketing diretto relativo e settoriale mirato e quindi un face to face come una fiera è importantissimo per tutti coloro che sono i leader del settore. Noi siamo pronti a recepire con questa fiera tutti quelli che sono i commenti, le criticità o le positività riscontrate o i consigli dati da qualsiasi tipo di utente. Abbiamo creato una fanpage interamente dedicata ed un sito su cui poter trovare ovviamente tutti i riferimenti per poi entrare a contatto con la manifestazione. La fanpage è Fiera Pescara Sposi e ovviamente di Facebook. La fiera è aperta soltanto nel pomeriggio del 15 e 16 di ottobre dalle ore 15 all'ora 21, ingresso gratuito. E' un percorso con tante novità e tante bellezze da vedere con un territorio da mostrare. La CNA è sempre presente, la seconda manifestazione del Pescara Sposi. Siamo in compagnia di Carmine Salce che è non solo il direttore della CNA ma anche il vicepresidente della Camera di Commercio. L'anno scorso abbiamo fatto una splendida manifestazione al porto turistico. Contiamo anche quest'anno di ripetere la manifestazione dell'anno precedente. Abbiamo puntato anche in collaborazione con la società che ci ha gestito la manifestazione che è la dintorni SRL puntato ad un livello alto, quindi a luxury come lo chiamano gli addetti ai lavori. Lo faremo anche quest'anno perché questo è un settore nel quale, comunque è un momento importante della vita delle persone, è un settore nel quale chi si sposa investe anche notevoli risorse. Siamo in compagnia di Nora Liberi, il Girasole che insieme alla dintorni organizza questo evento, seconda edizione, Pescara Sposi. Finalmente ci siamo, un percorso guidato anche per chi non sa dove mettere le mani nel giorno più importante della vita. Sicuramente Pescara Sposi è un evento di nicchia, un evento bomboniera in seconda edizione che darà alle future coppie, ai futuri sposi, la possibilità di scegliere il meglio che rappresenta le aziende in Abruzzo.